Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della serie di daily vlog più o meno. Come sempre sto a far colazione con i miei fantastici pancakes, mi sono svegliato da poco e sono sconvolto. Uh, questa è tipo Nutella. Sì, non è come la Nutella, non cambia niente. Ragazzi, cosa faremo oggi? Il giorno di oggi sarà molto meno avventuroso che andare al supermercato, perché certe volte andare al supermercato è un'avventura per me. Quindi oggi sarà molto tranquillo. Oggi l'idea è quella di girare due video almeno, cioè tre con questo, è incredibile. Che godure. Ma in realtà prima bisogna lavorare per la farm e dato che sto lavorando a un progetto semi segreto, oggi pomeriggio dato che fa bello, ci andiamo a fare una bella passeggiatona. Fantastico. Raga, mi ha messo già il succo che mi ha comprato. Quanto è contaminato. Ecco qui, il fantastico succo. C'è stato. Di arancio sa di arancio. Tra l'altro penso sia una notte più scomoda mai concepita dall'umanità. Vabbè, non sa di niente, vabbè, ma quello era ovvio. E non sapeva di niente, era praticamente ovvio. Sapete cos'è? Che i presenti i supermercati qua sono un'unione fra i marcioni, i nostri supermercati, tutti messi insieme in un unico posto. Tipo, sono dei discount del discount. E non ho ancora trovato dei supermercati e dici, cazzo questo è un supermercato di prima classe. No, sono tutti così, tutti marci, incredibili. Noi ci vediamo dopo, dove iniziamo finalmente a fare qualcosa durante questa lunga giornata infinita. Quindi guardatelo alle mani e... Andiamo a vedere un po' come è il tempo fuori. Ok, la tácù sono qui mani che fronte da l'essi barran. Ma quanto è bello questo scozzo Ragazzi, hashtag cazzo che buono Ok, direi che sono abbastanza creativi Ok ragazzi, direi che seriamente è il momento di rendere questo video interessante Quindi, prendiamo la stedi, mettiamo sopra l'obiettivo nuovo E andiamo a farci un giro in cortile Vi faccio vedere un po' quello che c'è intorno alla casa Così conoscete dove vivo E lo scopro anch'io che da un po' di giorni che non ci navigo intorno Dai So we can do it out, out, out Bene ragazzi, questo Daily Vogue finisce qui con questo giro in stedi veloce Questo primo test del 1740 sulla stedi Sono molto contento, questa lente è veramente bellissima Grazie per averlo seguito Se vi è piaciuto fatemelo sapere Io mi sono stra divertito a fare un montaggio alla Whiplash Con tutti questi suoni nella cucina è stato veramente, veramente divertente Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace Scrivete un commento Ciao belli! Ciao belli! Grazie.